Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove è stata chiusa l'uscita di Livorno Aurelia provenendo da Firenze. In A1 stanotte, in orario 22.6, saranno chiusi i tratti tra Rioveggio e Aglio in direzione Roma e tra l'allacciamento con l'A1 direttissima e Rioveggio in direzione Bologna. A Firenze in via del Pignone, fino al 26 novembre, chiusura del tratto tra il Civico 51 e il Lungarno del Pignone. Infine per i treni per un ostacolo sulla linea tra Badesse e Siena, la circolazione al momento sospesa. I treni della direttrice in Polisiena potranno subire ritardi fino a 40 minuti o variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!